Uno dei motivi principali per cui il rapporto uomo-donna fa così paura è l'ansia da prestazione, la terribile ansia da prestazione. Perché? Che siamo un uomo o una donna, vediamo nell'altro qualcuno da conquistare, qualcuno da soggiogare in qualche maniera. E questo ovviamente crea un rapporto non di collaborazione, ma di confronto, scontro. E ovviamente qui puoi o vincere o perdere. Il risultato è la paura. Ti svelo un segreto. Uno dei motivi per cui faccio il lavoro che faccio, cioè tenere conferenze, perché alla fine fare questi video è soltanto una passione per me, io per lavoro tengo conferenze davanti a centinaia di persone. Beh, uno dei motivi principali è che io mi sono sempre ritenuto una persona timida. Quindi io faccio il lavoro che faccio non perché l'ho scelto in base a quello in cui sono bravo, ma per andare oltre i miei limiti. È un modo un po' strano di ragionare, ma ha funzionato. E una delle lezioni più importanti che ho imparato è stata quella che il pubblico davanti a me non è un mostro da sfidare, ma è qualcuno con cui voglio creare un rapporto, costruire qualcosa. E lì posso soltanto vincere. È la stessa cosa nel rapporto uomo-donna. Nel momento in cui tu vedi l'altra persona come qualcuno con cui vuoi costruire qualcosa, non una famiglia ovviamente, anche il rapporto di un attimo, anche semplicemente una conoscenza migliore. Anche soltanto il fatto di conoscere meglio te stesso o te stessa e quest'altra persona. Lì puoi solo avere successo. Ed è un'altra cosa fantastica che accade. L'altra persona può soltanto ringraziarti perché vuoi costruire qualcosa con lei, non vuoi conquistarla in maniera negativa. E quindi è per forza contenta. Togliti dalla testa l'obiettivo finale. Capisco che possa essere molto motivante, soprattutto se lui o lei sono tanto tanto carini e avvenenti. Ma toglitelo dalla testa perché ti fa paura. Pensa a costruire un gradino alla volta, a scoprire qualcosa di quella persona. Tutto il resto verrà naturale.